Ciao amici! Oggi mi insegnerò a fare una zucca con le tovagliolini di carta. O corrente, tovagliolini di carta arancione a doppio velo, corpice, bottiglia colorata, cartoncino nero, nastro verde, colla caldo. Prendete due tovagliolini di carta arancione a doppio velo, li aprite e dividete i veli. Fate la stessa cosa con l'altro tovagliolino. Ora sopravvonete i quattro veli e allineateli perfettamente. Adesso piegateli e tagliateli con una piccola striscia dove è unito. Adesso piegate il tovagliolo a ventaglio dal lato corto. Ecco qua. Prendiamo il cordoncino e un altro ventaglio. Mettiamo il cordoncino a metà e inseriamo all'interno il cordoncino verde dall'altra parte del nodo. Il nodo deve essere fatto su una di queste parti con il ventaglio. Arrufiamo il cordoncino. Incominciamo a sfogliare i veli. Partendo dal velo più in su dalla parte del cordoncino verde e incominciamo a sfogliare cercando di metterlo molto in su prima da una parte e poi dall'altra. Agite con molta delicatezza perché vi si possono rompere i veli. Dovete tirare il più su possibile i veli cercando di non romperli. guardate già come è carina però bisogna portarla dal parrucchino. E adesso vi ci vuole una bella espressione cattiva. tagliamo tre triangoli e una mezzaluna. Per la bocca fate una mezzaluna e poi degli impacchi. Mettete una punta di colla cercando di non scottarvi e attaccatelo alla zucca. E' bellissima vero? Buon Halloween! E ricordatevi di iscrivervi al nostro canale di Genito di Channel su YouTube. Grazie!